Cassino ricorda Mennea perché la figura di Mennea è comunque legata alla città di Cassino per una data importante, 22 marzo 1983 e oggi 12 settembre del 2013. Cassino qui allo stadio Salveti, Cassino vuole celebrare anche un suo atleta. Sicuramente la figura di Mennea è una figura molto importante. Il Cassino ha voluto aderire al progetto dell'affida nazionale dove in 60 città d'Italia si fa questa giornata di festa. L'obiettivo è ricordare Pietro. Pietro Mennea è stato per noi un grande atleta, un grande uomo. È stato un atleta, è stato uno studente all'Isef di Cassino. Il 22 marzo 1983 ha stabilito la migliore prestazione mondiale ancora in vigore sui 150 metri in terza corsia e proprio oggi vogliamo ricordarlo. E quindi noi abbiamo pensato rispetto ad altre città di non fare una giornata solo di 200 metri ma 200 persone che fanno 200 metri. Quanto lavoro c'è dietro questa giornata? Pochissimo, veramente l'abbiamo fatto con un spirito sportivo, con un spirito gioioso. Non c'è un regolamento. Veramente un giorno, anche perché fino a mezz'ora fa c'era la pioggia e io ho detto non vi preoccupate perché oggi Pietro farà uscire solo. E quindi è una giornata di festa. Non a caso questo campo da poco è stato rimesso per fortuna in moto nel vero senso della parola. Tra l'altro noi sabato avremo anche un meeting giovanile e continueremo a dedicarlo a Pietro Mennea perché lui ha il simbolo di questo territorio. Sia come atleta che come uomo. Noi tra l'altro cercheremo ancora di tenerlo sempre più nei nostri cuori cercando di far crescere il più possibile dei giovani che magari prenderanno il suo posto cercando di calcare le sue orme. Noi tra l'altro cercheremo ancora di far crescere.